Come ogni anno ad Arezzo, rieccolo puntuale il tormentone carnevale sì, carnevale no. Stavolta a mettere i paletti al carnevale rettino dell'Orciolaia è un problema più serio rispetto a quello dei coriandoli, ovvero la mancanza di sponsor. La crisi sta mietendo la realtà rettina, spiega Giuseppe Marconi, che per anni è stato il patron della manifestazione e gli sponsor sono sempre di meno. Il budget è di circa 25 mila euro se si realizza una manifestazione con i vecchi carri. Ma si sa, il fascino del carnevale è proprio vedere nuove rappresentazioni e se si volessero aggiungere nuovi carri ci vorrebbero altri 20 mila euro. Sull'altro fronte, quello dei condomini della zona Montefalco, dove da alcuni anni si è trasferito il carnevale rettino, le nubi sono ancora fitte. Il problema dei coriandoli che ogni volta vanno ad intasare le caditoie è indubbiamente datato e ancora mancherebbe l'accordo con i residenti. Il prossimo 10 gennaio è fissata una riunione nella quale gli organizzatori decideranno cosa fare e come andare avanti. E così sapremo se nei volti delle maschere rettine scenderà una lacrima come quella dei Pierrot o spunterà un sorriso come il più colorato e divertente dei clown.